Sindaco, questa mattina è stata segnalata al Comune una situazione ambientale piuttosto grave, diciamo così, affenile. Sì, sono pervenute diverse segnalazioni dai cittadini di Via del Colle, dove c'è un terreno privato completamente abbandonato, quindi ci sono questi piccoli insetti che stanno invadendo le abitazioni limitrofe. Quindi questa mattina abbiamo inviato gli agenti di polizia locale per fare un sopralluogo e soprattutto per intimare il privato a provvedere allo sfalcio dell'erba, ma soprattutto anche alla disinfestazione dell'aria, perché comunque è una situazione di pericolo, perché sono di fatto gli abitanti rinchiusi dentro casa. Dall'altro però anche noi come ente pubblico stiamo cercando di fare una piccola disinfestazione per consentire, per andare incontro, diciamo perlomeno nelle pubbliche vie, alle esigenze dei residenti e delle persone che vi abitano. Io ribadisco, il Comune è importante che faccia la propria parte per quanto riguarda le aree pubbliche, ma dall'altro anche i privati devono rispettare l'ordine pubblico, quindi il decoro urbano. Quindi situazioni come queste vanno assolutamente contrastate.